Innanzitutto io sono entrata in fabbrica che nessuno sapeva del film. Cioè io ero una ragazza operaia che andava lì a lavorare, quindi non sapevano che io avessi un ruolo nel cinema. Ecco, quindi i primi due mesi e mezzo sono stati così. Imparavo il mestiere, imparavo ad inchiodare le pelli e poi a un certo punto hanno saputo del film. E' stato anche lì un lavoro diverso, perché ovviamente c'è stata anche una temperatura diversa. Però piano piano anche loro si sono abituate, ci siamo tutti abituati, anche io mi sono abituata. Perché poi anche Luca e Silvia lavorano anche molto con l'improvvisazione, perché tanti dialoghi erano improvvisati, proprio sull'esperienza delle ragazze. Per me è stato molto divertente, perché ascoltavo e mi accodavo quando potevo, magari un argomento che tiravano così, ne stavano parlando. Io, magari Silvia e Luca da dietro appunto la camera, mi dicevano allora dici quella cosa lì, metti appunto questa cosa di questo dialogo e vedi cosa rispondono. Quindi è stato un lavoro molto interessante, un po' come musica jazz. C'è stato un po' questo ritmo qui. Quando mi è stato proposto questo film, io non ho letto nulla, quasi fino a un mesetto prima delle riprese. Quindi Silvia e Luca, i registi del film, mi hanno parlato di questa storia, mi hanno parlato di una voce al telefono, mi hanno parlato del lavoro in fabbrica e mi hanno parlato di questa ragazza, che non ha un nome. Ecco, quindi è partito un po' tutto così, davanti ad un caffè, con una chiacchiera, non c'è stato casting. E questo per me è stato veramente anche una grande responsabilità, perché ovviamente non c'è stato anche modo di capire insieme come lavorare. Però ci siamo capiti subito, ecco. Quando si dice che davanti ad un caffè puoi capire una persona e anche come lavora, questo è il caso. Dopo un po' di mesi io mi sono trasferita a Solofra, dove è stato girato un film vicino a Vellino, e abbiamo lavorato tutti e tre in simbiosi, io con i registi. Sono stata in fabbrica, ho lavorato per tre mesi, andavo a lavorare la mattina presto alle sei, staccavo la sera tardi. E quindi ecco, c'è stata una costruzione per me rara, che veramente loro, i registi, mi hanno permesso di fare, perché il loro lavoro è principalmente documentaristico, quindi filmavano il reale. E appunto hanno voluto che anch'io facessi parte di questo reale e mi amalgamassi un po' a quelle che erano le ragazze che lavorano in fabbrica. Quindi ecco, quando mi hanno proposto questa cosa, io non potevo che dire sì e mi sono immersa completamente in questo viaggio. Recitare con un telefono, che appunto è stato difficilissimo, perché ero io e un telefono. Quindi non sapevo veramente come riuscire anche ad arrivare alla temperatura di alcuni dialoghi, che poi erano girati tutti in piano sequenza. Quindi io non potevo sbagliare, veramente una battuta, perché si doveva ricominciare da capo. E quindi è stato un lavoro molto di concentrazione, un po' come un lavoro teatrale. Cioè quando sei in scena non puoi sbagliare, non c'è uno stop come a teatro, non è che puoi sbagliare. Però grazie a tante prove che abbiamo fatto, come una coreografia si era creata una danza, dove io sapevo esattamente il punto, sapevo esattamente la scenografia. Ecco, quindi è stato difficile. Mi ha richiesto tanta concentrazione. Sì, è stato molto interessante però, devo dire. Logarno io veramente la amo profondamente, perché è un tipo di cinema che a me piace molto. Tra l'altro sono venuta un paio di anni fa come accompagnatrice, però io diciamo che l'anno scorso anche sono venuta da spettatrice. Quindi ecco, un festival che frequento, che mi piace, ed essere qui in concorso con un film veramente è un coronamento di un sogno, devo dire.